Ciao a tutti, qui Piero San Giorgio. Sono oggi nelle mie montagne svizzere e purtroppo non posso essere con voi a questo raduno a cui mi sarebbe tanto piaciuto venire, però purtroppo le cose sono così, non si può sempre fare quello che si vuole. Volevo dirvi due parole dalle mie montagne svizzere per voi tutti che siete qui oggi con Marco e tutti quelli che hanno organizzato questo evento. Come voi sapete, chi si prepara spesso ha avuto negli anni passati la reputazione un po' di persona strana, di persona che, ma come, prepararsi quando tutto va bene o tutto sembra andare bene. E credo che sempre di più ci sia una coscienza tra la popolazione, tra la gente, intorno a voi, intorno a noi tutti, che in fondo il mondo sta andando male. La gente capisce questo. Vede milioni di invasori ogni anno che arrivano sulle spiagge europee e che poco per volta vanno attraverso l'Europa e che causeranno problemi enormi. La gente comincia a capire che le crisi finanziarie, le crisi del debito, le crisi economiche stanno toccando tutti, ricchi, poveri, soprattutto poveri purtroppo. La gente sta incominciando a capire che i politici, i governi non sono più capaci a portare soluzioni, anche se io credo che non hanno mai portato soluzioni. In Italia sapete che il governo speriamo che faccia almeno il casino possibile, ma in realtà non ha mai riuscito, almeno negli ultimi 40 anni, non sono mai stati capaci a portare soluzioni alle crisi e ai problemi. Piuttosto sono state le persone, la gente, gli imprenditori che sono stati capaci a tirare su le economie e creare ricchezza. E voi tra l'altro siete degli imprenditori perché siete dei pionieri, come noi tutti che ci prepariamo, siamo stati i primi a percepire, magari con ragioni diverse e sentimenti diversi, ma comunque abbiamo capito che bisogna prepararsi a dei futuri possibilmente difficili. E oggi sembra, secondo me, una certezza che stiamo entrando in un periodo storico molto importante, molto difficile, e dunque queste nostre preparazioni sono fondamentali. E dunque è importante per noi tutti incominciare a parlare alla gente intorno a noi, e non più aver paura che ci consigliano della gente strana o che dicono ma insomma vi preparate, ma perché? No, adesso la gente capisce. Però non fa legame tra la crisi che sta vendendo e queste crisi diverse che stanno convergendo. Secondo me abbiamo ancora 3-4 anni, non di più, prima che saltinare al sistema occidentale, al sistema economico. E dunque in questi pochi anni dobbiamo andare a vedere la gente. Innanzitutto dobbiamo continuare a prepararci noi, con logica, con premura, con i mezzi che abbiamo ovviamente, ma dobbiamo anche parlare alla gente intorno a noi, la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri vicini, non dicendo che è la fine del mondo, non è la fine del mondo, per niente, ma piuttosto andare a vedere dicendo guardate, siete d'accordo che qui sta diventando dura, l'economia sta crollando, le crisi energetiche, ambientali, le crisi di migrazione delle popolazioni, le invasioni, i problemi con le religioni stanno diventando pesantissime e ci stanno urtando di piena forza, giusto? E la gente dirà sì, è vero. E noi diciamo ecco, prepararsi a queste cose difficili, sì o no, è qualcosa di interessante? E la gente dirà ovviamente sì. E lui dice ecco guarda io sono anni che mi preparo, ho qualche strategia, magari li fate leggere il mio libro, ma comunque gli spiegate comunque che è logico e che la premura, la preparazione è qualcosa di semplicissimo logicamente, che non è qualcosa di strano, è la cosa più ovvia che abbiamo sempre fatto, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri antenati si sono sempre preparati agli anni difficili e questi anni difficili stanno arrivando e spiegare alla gente che non ci vuole una varanga di soldi, non bisogna necessariamente comprarsi la casa come ho fatto io con i pannelli solari, eccetera, eccetera, certo si può anche fare quello se uno può, ma si può anche prepararsi in modo ragionevole, in modo piccolo a casa sua, certo in città è difficile, certo, se vivete a Milano, Roma, Torino, è molto più difficile che se siete in campagna o se siete nella baita in montagna, ovviamente, però bisogna anche lavorare, molta gente per lavorare deve stare in città, però imparare a fare queste preparazioni ci fa cambiare il modo di pensare e una volta che il modo di pensare cambia, ovviamente possiamo a questo punto cambiare il punto di vista e forse ridurre l'impatto di questa crisi per noi ovviamente, ma anche per gli altri, i nostri vicini, perché la gente che pensa che chi si prepara è un egoista non ha capito, chi si prepara può aiutare gli altri, non è obbligato, cioè si può anche andarli a fanculo, perché dovrebbero prepararsi anche loro, però chi non è preparato non può aiutare nessuno, neanche se stesso, neanche i suoi figli, neanche la famiglia, e dunque non è per niente un approccio egoista, non è per niente un approccio individualista, anzi è proprio il contrario e oggi è il momento, secondo me, di parlare alla gente, di spiegare come vanno le cose e di spiegare quali sono, non saranno le soluzioni al problema, cioè quando uno si prepara, non so, in Lombardia, cioè non è che voi fermate il milione di africani che sbarca in Sicilia ogni anno, no, però vi preparate a quello che può succedere e secondo me succederanno cose terribili e estremamente violente, dunque bisogna prepararsi molto, molto in avanti, cioè bisogna pensare davvero a tutti i scenari possibili, incluse le guerre, le guerre civili, e secondo me il crollo davvero delle società europee e statunitense e comunque occidentali, forse per una volta ci vengono a salvare i russi, non lo so, comunque bisogna prepararsi, bisogna aiutare gli altri, dunque il mio messaggio per voi è che fate bene a prepararvi, avete ragione, non è solo un istinto, è anche qualcosa che è ragionevole e dunque questa preparazione la potete spingere con calma, con animo sereno ed è dunque il momento, sicuri di voi, di incominciare a parlare intorno a voi, perché la gente dovrebbe ascoltare, sono sicuro che lo sapete, sono sicuro che avete visto una differenza tra cinque o sei anni fa e adesso, la gente adesso ascolta, non vi prende più per dei matti, non lo siamo, non lo siamo matti, saremmo matti se pensiamo che sia la fine del mondo, che arrivano gli alieni, che arrivano le meteoriti, stiamo pensando a delle cose che sono logiche, che sono normali, che sono molto prevedibili oggi, magari cinque anni fa chi pensava che crollava il sistema mondiale e dell'economia globalizzata sembrava qualcuno abbastanza o visionario o originale, invece oggi mi sembra assolutamente normale di pensare quello e dunque noi possiamo portare le soluzioni, ci sono anche dei business da fare, dunque si può anche immaginare fare consulenza, si può anche immaginare, dico quello per chi di noi ha bisogno di un po' di soldi, si può monetizzare le nostre conoscenze, no ma non scherzo, è qualcosa di importante. Comunque vi auguro un buon raduno, vi auguro di divertirti, vi auguro di fare molte connessioni così vi conoscete, così vi potete mettere su dei network di persone che possono aiutarsi e darsi consigli e comunque tenetevi ben d'acconto voi e le vostre famiglie perché purtroppo le cose stanno andando male e comunque spero che ci vedremo in Italia se vengo a fare delle conferenze nel 2017 e se mi invitate comunque io vengo. Comunque vi saluto e a presto e preparatevi, ciao!